Continuano i miglioramenti presso l'ospedale civile di Agropoli in vista dell'imminente apertura che avverrà a personale medico completato e al quale mancano pochissimi pezzi. A ricevere un upgrade nel servizio è stata anche la guardia medica che ha ottenuto una postazione totalmente nuova ed accogliente. L'importante servizio di continuità assistenziale non è più ubicato nei pressi del pronto soccorso ma è stato recentemente spostato sempre nel distretto sanitario agropolese in un'altra zona. Basterà infatti terminare la grande rampa presente nel distretto per trovare la nuova guardia medica posizionata strategicamente anche al fianco del Radio Surgery Center. Un presidio ospedaliero sempre più avanzato per Agropoli, completo di servizi per affrontare varie evenienze, come in questo caso partendo dal primo soccorso.